In questo breve video tutorial vediamo Start Me, una specie di bacheca che assomiglia a Padlet, dove conservare i vari links che stiamo utilizzando per le lezioni online in questi giorni. Così li possiamo ritrovare se ne abbiamo la necessità più avanti, quindi è una specie di repository. Andiamo a vedere come fare. Andiamo su Google e scriviamo Start Me, poi facciamo un click, arriviamo a una schermata di questo genere, poi la metteremo a posto, andiamo su login e entriamo, ad esempio io uso il mio account di Google che è già logato, quindi facciamo click e arriviamo a una pagina iniziale che possiamo anche eliminare in maniera tale da avere soltanto quello che ci interessa, quindi con i tre puntini qui facciamo Delete Widget che per il momento non ci serve così abbiamo una pagina abbastanza ordinata e mettiamo soltanto i links che vogliamo utilizzare nelle nostre classi. Quindi facciamo una pulizia veloce e eliminiamo anche questa, Delete Widget e poi anche questi due, li eliminiamo, facciamo click, Delete Widget e via. Adesso abbiamo una pagina super pulita. Allora, per creare un widget, diciamo un link su questa baccheca che è vuota, noi innanzitutto andiamo a vedere che risorse vogliamo prendere. prendo ad esempio, vado sul sito di, della person che ha del materiale per la didattica digitale integrata, vado su secondaria di primo grado e vado a selezionare, chiudo questa finestra, vado a selezionare ad esempio inglese che è quello che insegno e quindi vado a vedere se ci sono dell'argomento che può interessare, che può coincidere a quello che sto già facendo. Quindi Distance Teaching and Learning non era questa. Andiamo a vedere le risorse didattiche, eccoli qua. Quindi vado a prendere grammatica, ad esempio vado, so che hanno dei molti video molto interessanti, belli, che sono fatti molto bene e vediamo se trovo ad esempio un video che riguarda il passato, ecco. Quindi prendo questo video che vorrò conservare, magari condividerò già direttamente in Google. Ecco questo è il video, l'avevo già utilizzato, quindi prendiamo come un esempio e non è che guardiamo il video ora, ma ci serve il link qua sopra. Faccio un click, tasto destro, copio, poi posso anche chiudere perché ho già copiato il link, torno sulla mia pagina di start me e faccio questo più che vedete qui add widget e invece di fare invece di fare bookmark, queste cose qui, andiamo direttamente sul più di embed e clicchiamo sempre con il tasto destro, fa incolla e facciamo done fatto ed ecco che abbiamo inserito la nostra prima bacchecca. Poi con questa penna che vedete qui possiamo cambiare il nome del video, invece di fare embed web page che è per default, scriviamo ad esempio, cos'era? Past simple, sono seduta comoda, quindi posizione non tanto corretta ma that's ok. Allora past simple, questo è sempre con la matita posso fare un editing e invece con questi tre puntini possiamo fare un edit, copia, sposta oppure cancella se non ci serve e questo è la nostra prima finestra. Ora andiamo a vedere se trovo un altro magari dello stesso argomento, simple past, qua abbiamo la forma negativa ad esempio, il video è molto, veramente bello da vedere, sempre su quel sito del chilometri zero, ecco così comincerebbe, a noi serve soltanto il link, quindi prendiamo copia, prendo il link, torno alla pagina di prima e rifaccio la stessa procedura che era semplicemente add widget, lo trovavamo qui, questa volta invece devo andare su questo più e vado a fare il più di embed, tasto destro, incolla, fatto e qua abbiamo inserito. Se voglio condividere, beh cambiamo anche il nome qui, questo è la forma affermativa, quindi scriviamo past simple, quindi posizione non corretta, but that's alright, past simple, affermativa, giusto per capirci, affermativa, to be, for example, e poi adesso se voglio condividere queste due risorse, vado su share e poi vado a cambiare questa impostazione di private e posso mettere ad esempio open link e vado a copiare questo link e condivido su classroom, e faccio vedere velocemente questo sfondo che vediamo qui, per fare questo sfondo c'è questo simboletto che vediamo che indica proprio lo sfondo e da qui possiamo selezionare diverse, diverse tematiche, diciamo, spiaggia, landscape, paesaggio, eccetera, quindi io scelto questo che mi piaceva, giusto per dare alla bacheca un po' di colore, ed ecco che abbiamo la nostra bacheca pronta. Se andiamo su questi tre pallini, tre righette qui, troviamo le nostre lezioni, ad esempio, suddivise per classi e in ognuna di queste pagine abbiamo dei video diversi, ecco, quindi crea una pagina nel senso di suddividere proprio per argomento. Allora, questa era la start page, che è quella che abbiamo fatto per prova e abbiamo eliminato e quindi posso anche rinominare da qui, posso chiamare past simple, giusto per farvi vedere che anche la home page si può modificare, ecco, fatto questo prendo il link e su classroom possiamo andare su classroom e condividere o semplicemente, vediamo se qualcuno di voi ha una una cartella, come faccio io, una classe chiamata repository, che è questa, dove di solito metto dei link che mi serviranno magari più avanti, ma non lo voglio utilizzare nella mia classe, quindi vado su, è una classe praticamente un magazzino e poi assegno come lavoro, assegno come lavoro, soltanto come materiale perché non è che lo assegno, quindi materiale è un materiale video, materiale video e scrivo simple past, ok, che va nel repository, quindi faccio aggiungi il link di prima ed ecco che abbiamo la pagina di start me che abbiamo appena creato, quindi viene anche abbastanza colorata, se faccio pubblica ce l'ho nel mio magazzino, la classe magazzino, dove posso pubblicare oppure semplicemente posso mettere in bozza e poi usare quando mi serve e questo è il video che i ragazzi, se ad esempio abbiamo assegnato su classroom, fanno un click e arrivano alla pagina di start me che abbiamo appena creata allora, per vedere ad esempio come fare la suddivisione fatta così, facciamo create new page e la chiamiamo, possiamo chiamare cosa, in questo caso possiamo chiamare, vediamo i futuri, future one per esempio mi crea una pagina completamente vuota, ora vado a prendermi una risorsa, se trovo in questo caso, vediamo, è solo per esempio, quindi prendo un altro video che riguarda il futuro, prendo il link faccio la stessa procedura di prima, quindi tasto destro copia ritorno a start me, all'inizio la pagina è fatta così, quindi è vuota se invece abbiamo creato un widget noi, succede che facciamo embed come prima poi faccio ctrl v in collo, done cambio il nome, questa volta chiamo future one future one e si salva in automatico praticamente ok, allora, questo l'abbiamo fatto, facciamo invio e la prima pagina qua è pronta se torno sempre su queste tre righe, dove mi si apre tutte le mie pagine questa era la start page di prima, sì, che poi il nome non me l'ha cambiata perché non avevo fatto salva da qua e quindi l'avevamo chiamata past simple past simple facciamo save e adesso sì che c'è e lo troviamo anche qua in alto, se vedete ci sono tutte le pagine suddivise per argomento e abbiamo anche gli sfondi diversi giusto per riconoscere e poi noi vediamo da qui oppure semplicemente da questi tre tastini e quindi abbiamo creato il future one che era quello recente, c'è solo un video possiamo semplicemente condividere anche un solo video, perché no? quindi share, se facciamo share e da qui mettiamo open link, prendo questo link quindi copio, vado su classroom, quindi assegno su classroom siamo finte che questa sia una classe, perché se vado a assegnare a una delle mie classi magari dicono cos'è questo compito qui, però è a scopo solo dimostrativo di come funziona start me che a me piace molto, perché veramente ogni tanto troviamo delle risorse in giro per il mondo e magari in quel momento non ci serve, metto su repository, quindi abbiamo trovato una risorsa di future 1 e aggiungo il link, quindi tasto destro, incollo, aggiungi il link beh posso anche pubblicare, tanto non arrivo oppure lo mettiamo su semplicemente come bozza oppure lo pubblico e abbiamo il link, viene abbastanza colorato e i ragazzi cliccano e arrivano alla pagina che abbiamo noi, tra l'altro l'avevamo chiamata, aspetta ho copiato il link sbagliato ecco, dobbiamo andare qui, open link, copy e vado ad aggiustare il link ho sbagliato perché può capitare anche questo, no? quindi modifica e vado a togliere il link ho inserito, faccio aggiungi file oh my goodness questo file, no, e aggiungi, ho ormai fatto tre lezioni di fila quindi sono abbastanza fusa facciamo incolla il link, vediamo se questa volta sì, future 1, viene anche il nome colorato e ci porta la pagina di dimostrazione che abbiamo appena creato quindi abbiamo visto come cambiare lo sfondo come aggiungere una, come fare un video da aggiungere in questa pagina quindi utilizzando l'embed, questo tasto qui qua ci sono altre funzioni che uno può scoprire abbastanza interessanti però in questo video ci limitiamo soltanto a creare le pagine con i vari link di lezioni che possono servire si presenta in questa maniera che è molto bello, sembra quasi quello di Padlet se qualcuno ha usato, che trovi però non è che uno può interagire questo è personale e qua abbiamo tutte le nostre risorse e possiamo aggiungere altre pagine sempre da questo tasto qui ecco, poi share abbiamo già visto cambio sfondo abbiamo visto aggiungi pagina abbiamo visto e questo è tutto, alla prossima puntata, ciao! vi saluto dalla mia posizione molto comoda e mi piace essere comoda per fare i video editing, fare le lezioni e abbastanza velocemente così abbiamo tempo per andare anche a fare una bella passeggiata ciao a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti!